Buongiorno, in questo secondo video scopriremo gli elementi principali di un carattere, in pratica le parti che lo compongono e definiscono. Buona visione! Come potete vedere da questo schema, un carattere è determinato innanzitutto da alcune linee orizzontali che ne definiscono le varie altezze. Le linee rosse, dette rispettivamente asta ascendente e asta discendente, definiscono il corpo di un carattere, ovvero l'altezza massima che avrà la riga di testo, comprendendo quindi sia le aste ascendenti, come quelle delle lettere F, L, T, K, sia le aste discendenti, come quelle di P, Y e I, e l'occhiello o l'asta discendente della G, a seconda del fonte utilizzato. La linea base, indicata nello schema in azzurro, è la linea dove poggiano i caratteri. La linea base e la linea ascendente formano la cosiddetta altezza delle lettere maiuscole, la quale non tiene conto delle aste discendenti. L'occhio del carattere, in inglese X8, altezza della X, è l'altezza delle lettere che non sono maiuscole e non possiedono aste ascendenti o discendenti, come appunto la X, la A, la E, eccetera. Nel nostro schema è rappresentato dall'area blu scura. Il cerchio arancione indica una delle grazie della R maiuscolo. L'occhiello rappresenta uno spazio chiuso all'interno di un glifo ed è rappresentato nel nostro schema in verde. In questa seconda grafica sono mostrati altri elementi caratterizzanti del carattere, come l'incrocio, la gamba, il collo, l'orecchio, il braccio e la cravatta. Anche questo breve video è terminato e vi aspetto con piacere al prossimo. Buona giornata! Grazie! 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 Grazie!